halloween dove andremo a fare dolcetto scherzetto lo so io andiamo oh let's go jason guarda quante caramelle abbiamo già ultrapieno ma fammi vedere il tuo wow è davvero pieno anche il tuo sì ma io voglio fare dolcetto scherzetto ancora in un'altra casa io non so se voglio farlo guarda ne abbiamo già così tante per favore per favore un'altra casa ancora ok ma non un'altra casa spaventosa andiamo non andremo in una spaventosa chiaro ok ma in quale andiamo in quella quella ok dai jason dolcetto scherzetto sei sicuro che vuoi andare lì dentro è halloween sì è lì ma penso che sia super spaventoso ma non è spaventoso e ci sono solo due zucche e tu sei grande e grasso ok ok andiamo ma chi suona il campanello lo suoni tu va bene vieni vieni starmi vicino dolcetto scherzetto cosa è un fantasma corri hai visto Alex forse dovremmo provarci comunque ok ma proviamo a farlo velocemente forza andiamo ciao fantasmino dolcetto scherzetto per favore per favore dolcetto scherzetto sì dove se ne sta andando ed è anche spaventoso bello ci dai da bere ok ma che cos'era tu l'hai capito oh ehi andiamo forza i dolcetti torna qui dove stai andando ehi 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 che fai dove corri e questo arcobaleno che cos'è ehi 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 vieni qui dammeli subito ehi ehi fantasmino ehi dove vai ce li devi ridare hai capito cavolo torna qui ho detto prendilo 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 oh no ehi fantasma è caduto Alex prendiamo le nostre caramelle vattene ciao ehi wow finalmente le abbiamo riprese riecco le nostre caramelle Jason ecco qui tutti i nostri dolcetti le abbiamo riprese gna 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 Alex il fantasma è scappato dammi cinque fatti cinque ora abbiamo tutto guarda wow quindi questi sono tutti i nostri dolcetti guarda quanti tutti i nostri dolcetti sono tornati tutti a casa dolcetti e tu sei stato molto bravo Jason perché non ho paura di Halloween io invece ne ho così tanta guarda quante ha la fragola adesso sì che abbiamo tutto abbiamo recuperato tutto proprio tutto andiamo a casa adesso buon Halloween ciao buon Halloween ciao